Ciao ragazzi, sono sempre VosoVolper, oggi siamo di nuovo su The Sims 4, e allora andiamo a giocare. Questa è la nostra rizzo. Vediamo un po' cosa facciamo fare oggi. Ok. Te l'abbiamo. Eccoci qua, l'hanno lasciati qua. Già faccio fare altre amicizie, se no. Allora. Anzi, non passa nessuno. Questa è un po' scocciata. E allora va. Vai, vai presentatemi amicavolmente. Sì, va, non passa. Su, dai. Lascia stare qua da. E va a fare con la scienza con questa qua non so chi è. Allora. Complimenti sinceri, va. Adesso vediamo. Chiede la sua giornata, va. Poi intanto il lavoro si va tra 20 ore. Ok. Parla conoscere. Poi intanto la suona. Questo è il cao. È stato caldo. Non è stato il lavoro. Fino a che... bella Johnny, bro. Tanto mi ha fatto amicizia anche con lei. Allora, vediamo un pochetto qua. Allora, hai fame. Ma mangiava. Ah, già sto preparando solo. Ok, migliore. Che si prepara è buono. Toast. Eh, pasticciona. Spero che non si bruci la casa, eh. Perché sennò sono cavoli amari. Ok, mangia tranquilla. Qua non c'è posto, ok. Evo lì. Leggi coltura e preda. Ok, dopo aver mangiato, leggi un bel libro. Dopo, dopo, dopo. Dopo, dopo, dopo. Sono buoni. Ok, adesso. Belletto bravo. la viscica, la viscica, la viscica, usa sto bagno e finisce leggere basta ho letto troppo, per oggi ho letto troppo facciamo una cosa veloce poi fai la tua bella pisciatina, brava, le mani ok altro, sono a posto, l'energia, vabbè, poi ho fatto un riposino fai un pisolino qui c'è il bottom, così anche l'energia ti ripristina ok qui abbiamo un bel affare per farci tante belle cosette dopo quando avremo più di soldi ci faremo la piscina adesso vediamo un po' tra quanto, tra 15 ore ok, tanto sono le, non so se, che ora è, non so se, va, fa niente ok 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 adesso 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 che sta guardando, ora non usa guarda di abello basket wow ping pong tennis tavolo tenis tavolo boh mamma adesso e' già notte, nozzolina come passa il tempo la farò andare a dormire adesso e via andamola ok fai il bellissimo riposino suo dopo parleremo un po' con qualcuno vedremo allora il mio SMS è messo a lui ok siamo a posto va a fare una bella doccia se no fai la doccia siamo a posto anche per la doccia dopo a fare una bellissima collezione allora cucina fai collezione sono pazzate l'unica cosa che c'è andiamo un po' di più veloce e la la ok mangia bobo facciamo usare la viscica usare la viscica va in bagno ok si è scaricata tra quanto e un'altra quattro ore da andare a lavorare e penso che finiremo la nostra il nostro gameplay vediamo cosa lo sta guardando calcio boom go ok tra due ore da andare a lavorare signorina vediamo con chi posso possiamo far fare amicizia no non voglio ok ma detto che no che non voglio peggio pare eh vediamo le altre casette anche lì tra circa 75 mi sa 7 ahia 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 tra poco da andare a lavorare la nostra campionessa ah charno 40 minuti facciamo più noce baaah 4 minuti 3 minuti 2 minuti 1 minuto e andare a lavorare vai lavoro vai ok la nostra campionessa sta andando al lavoro intanto possiamo vedere un pochetto come costruire ok allora vediamo un po' come costruire la nostra c'è che i labirinti allora la nostra bellissima piscina la struttura piscina triangolare quadrata triangolare com'è l'uscita dove c'è l'uscita però ah no no anzi l'è l'uscita ok che non faccia davanti l'uscita proprio facciamo qua lei ok adesso possiamo fare una bella scaletta dobbiamo aspettare altri soldi ok tanto introverso faccio sim non faccia nulla non dico trovo ok per il momento così la nostra bella piscina ok 230 dollaroni ok adesso devo sapere la nostra bella piscina ci prendiamo ok questo poi un po' le luci che non mi sa ok va fa' questa luce ce l'è già ce l'è già decolazione la piscina qua prenderemo dischi vendi ok dopo metteremo metteremo a posto dopo ok ragazzi noi continueremo sempre il prossimo gameplay e finiremo la piscina ciao a tutti grazie ciao a tutti